La televisione francese BFM, la più importante televisione all news parigina, ha deciso di non mostrare più i volti dei terroristi dell'ISIS. Mentre parlava dell'attentatore che ha sgozzato il sacerdote in Francia, in un servizio del telegiornale, ne ha fatto vedere un simulacro vuoto. Le Monde, storico quotidiano transalpino, non pubblicherà più le foto degli assassini. Non è una decisione unanime dei mass media francesi. Li Figaro, a esempio, non cambierà il suo modo di raccontare i fatti. Invece la Crua, il quotidiano cattolico, ha deciso di inserire solo le iniziali degli attentatori, France 24 e Europe One nemmeno le iniziali. È un tentativo per limitare gli emulatori, togliendo loro la soddisfazione della notorietà. Dubbi e domande che sono arrivati anche in Italia. Si sono già posti il problema il direttore di Repubblica Mario Calabresi e l'editorialista del Corriere della Sera Beppe Severgnini. Emulazione è un termine neutro. Può essere splendida o terribile. Si possono emulare gli eroi o gli assassini. Sono questi, purtroppo, a godere al giorno d'oggi di maggiore popolarità. Quello che sta accadendo in Europa è evidente. Il male genera male, il sangue chiama sangue, l'imitazione dell'orrore genera altro orrore. Come evitare che gli attentati terroristici diventino materia di emulazione? Che gli assassini creino copycat, come gli americani chiamano i folli che copiano i delitti celebri? Il metodo è spegnere le luci della ribalta. Non è detto che funzioni. I terroristi non uccidono solo per diventare noti. E poi hanno la rete che diffonde senza tregua i loro video. Ma la domanda in mass media devono porsela. È una questione di etica dell'informazione e di responsabilità dei giornalisti.